GOG, ovvero Gruppo Operativo Giovani, un esempio di come attraverso la partecipazione e l'impegno in diverse attività si possa contribuire alla costruzione di una società migliore. Un'iniziativa che nella Conca al Pagota dura da 13 anni e vede la collaborazione dei tre comuni di Chiesa, Il Pago e Tambre con capofila l'Unione Montana nelle progettualità attuabili grazie al contributo regionale per le politiche giovanili. Arte, manutenzione del territorio, assistenza agli enti locali sono solo alcune delle attività che vedono i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni collaborare con le diverse associazioni presenti sul territorio e i numerosi volontari che offrono la loro guida e le loro competenze. Ogni anno il GOG opera con un filo conduttore diverso. Quest'anno il nostro slogan è i decostruttori, con il de fra parentesi però. Qual è il pensiero alla luce anche della realtà che ci circonda? Che costruire e decostruire non sono in sé azioni negative o positive, ma ogni giorno noi possiamo costruire qualcosa di buono, pensiamo solo alle relazioni tra le persone, tra le generazioni, appunto il bene comune, il nostro impegno e anche decostruire qualcosa di negativo. Pensiamo all'odio oppure appunto all'astio che c'è tra le persone. Con il GOG vogliamo quindi essere messaggeri di questo piccolo motto per dare il nostro piccolo contributo alla comunità. Un modello di cittadinanza attiva che permette ai giovani di incontrare le generazioni che li hanno preceduti in un terreno comune dove lavorare assieme e far crescere e consolidare quello spirito di comunità che è sempre più necessario ai nostri giorni.